Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buon weekend a tutti, invito comunque tutti voi che vedete i miei video a iscrivervi al canale, commentate questo mio video, pollice in su mi raccomando, pollice in su, poi se vi va andate a visionare i video di Roby Ramu, un vecchio cuore rosso nero, anzi un vecchio. È giovanissimo, molto bravo, io vi consiglio di andare in massa a guardare il suo canale e di iscriversi anche al suo perché è largo ai giovani, bisogna sempre dare una mano ai giovani. Quindi Roby Ramu io ti saluto e incominciamo, vigilia, vigilia di Milan-Fiorentina, una partita ostrica. Io, ragazzi, ho sempre parlato molto bene della Fiorentina, a me piace, piace parecchio come squadra, però quest'anno sta davvero deludendo, davvero deludendo. Io l'avevo inserita come possibili sorprese del campionato e ha sorpreso anche a me però il negativo perché comunque io la rosa la vedo una buona rosa, una rosa che comunque può puntare all'Europa League. Ecco, detto questo, ho sempre detto che a me il loro allenatore, che ormai è diventato ex allenatore, mi faceva scagazzare. Iacchini, per me è un allenatore da una squadra che può puntare al massimo a una salvezza o comunque è un buon subentrante di un allenatore che magari va male ma io un progetto in mano ad Iacchini non lo darei mai, consiglio, idea mia. Detto questo, comunque è una formazione, io non mi sento già coi tre punti nella sciacoccia, neanche un po', perché comunque è per una formazione che ha Milenkovic, ha addirittura Castrovilli che mi piace un sacco, perché io Castrovilli lo porterei, lo prenderei a spalle e lo porterei subito a Milano come anche Milenkovic che anche lui come difensore sarebbe, le porterei via tutte e due al zenaio così abbiamo uno squadrone esagerato. Comunque, lasciando perdere le fantasticherie mentali, visto che questi costano soldi, c'è il nostro Giacomino che non so se giochi, se è infortunato boh perché ogni tanto sta male, ogni tanto sta bene. Ragazzi, forse abbiamo, non ero contento, ma forse abbiamo fatto bene a non rinnovargli il contratto. La pecca della Fiorentina, non dovrebbe esserci Riberi, la pecca della Fiorentina è lì davanti, Cutrone, Bomberone, Vecchio Cuore, Rosso e Nero, non gli danno molta fiducia e neanche lui quando entra fa tanto bene. Sto Vlaovic ce lo volevano infilzare a 30 milioni, prendevamo una sola per me, comunque niente di che, cioè, Kajon, per me, come quando giocavo nel Genoa non mi dispiaceva affatto, quindi secondo me è anche una buona squadretta. Detto questo, sono quelle partite che noi dobbiamo vincere assolutamente, visto che il nostro obiettivo rimane sempre, entrare nelle prime quattro posizioni, io vi dico, fino a febbraio io vi parlerò di quarto posto. Dopo, da marzo in poi, guardo la classifica, se siamo lì, vi parlerò di campionato, ma adesso, umiltà, io sono umile, sono un ragazzo molto umile, e quindi nulla. Noi arriviamo bene, arriviamo comunque da una grande vittoria contro il Napoli a San Paolo, quindi arriviamo carichi di entusiasmo, da un buon pareggio in Franza con il Lille, quindi anche lì sicuramente rispetto a loro che hanno riposato tutta settimana, noi arriviamo ovviamente più stanchi, ma se vuoi diventare una grande squadra, se vuoi ambire certi obiettivi, devi mettere da conto anche le due partite a settimana, quindi la rosa, il turnover l'abbiamo fatto, e si dice che abbiamo recuperato Salamecchia sulla destra, non cambia, secondo me non cambia dal giorno alla notte avere in campo Salamecchia o Castiglieco, quindi indifferente, mi va bene qualsiasi che gioca, stiamo recuperando a piccoli passi, Leao e Ibrahimovic ci vorrà ancora del tempo, io spero Ibra di recuperarlo almeno per la partita prossima contro il Parma, non vi dico con Celtic perché quella non lo farai giocare comunque, perché il campionato viene prima di tutto, e cosa possiamo dire? Io sono convintissimo che comunque Rebic farà una grande partita lì davanti al posto di Ibra, sono assolutamente ottimista, vedo un buon Milan, vedo un buon Milan, un Milan che è squadra, un Milan che comunque ha la sua identità calcistica, quindi io non sono preoccupato, non penso di subire degli sgambetti da Cesare Brandelli, un allenatore che ai tempi a me piaceva un sacco, ma che adesso secondo me è in fase calante, speriamo di non fare suscitare i morti, comunque forza mina, forza ragazzi, mi raccomando, continuiamo così perché stiamo andando alla grande, sono orgogliosissimo di voi, vi bacierei ad uno ad uno, il benzineo vi bacierebbe ad uno ad uno, e mi raccomando, non deludermi, testa e cuore, 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 testa e cuore. Bene, detto questo, oggi ci sederemo tutti belli nel salottino a cu, 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 gufare perché Sassuolo Inter, Sassuolo Inter, io la vedo male per l'Inter, il Sassuolo è in fiducia, sta giocando un calcio esagerato, dei zerbi grandi, allenatore emergente, e dall'altra parte io vedo un Inter con un Conte che non è più nel progetto, una squadra nervosa, perché l'ho vista nervosa già correre a Madrid, e secondo me l'Inter stasera, oggi pomeriggio, anzi ore 15 ragazzi, subirà il contraccopo psicologico, io ho questa idea qua, lo dicevo anche ai miei amici interisti, che bazzicano per il mio distributore, gli dicevo ragazzi, secondo me l'Inter subirà il contraccopo psicologico, poi comunque magari verso sera ci vedremo con un video, e discuteremo tutti insieme, forse, se c'ho tempo, fatto sta che la vedo, la vedo in difficoltà, nonostante ha una corazzata, io la do sempre come favorita al campionato, però oggi hanno l'opportunità di dare una risposta seria, se dovesse perdere, secondo me inizia l'affondo, salvo che in tempi brevi mandino via Antonio Conte, se dovessero vincere allora tutto è ancora da dire, l'Inter è fortissimo come rosa, non si può dire niente, poi Benevento nel pomeriggio, verso le ore 18, Benevento-Juventus, si uva, ma la Juve è nettamente più forte, Pippo mio, boh, facci un regalo se riesci, ma se non riesci non si può dire niente, la Juve, c'ha anche le due squadre, lì davanti, poi c'ha quel fenomeno di Cristiano Ronaldo, quindi, le mie speranze sono praticamente, di una sconfitta, e dopo io mi accontento anche di un pareggino, l'importante è sempre che vinciamo, noi non dobbiamo guardare gli altri, però, se la Juve non vince, è sempre meglio, detto questo, amici Juventini, state sereni perché, siete una spanna, avanti a loro, e nella serata, big match, di giornata, Atalanta-Verona, anche lì, ragazzi, l'Atalanta si gioca tanto, mercoledì in Champions, quindi sicuramente farà del turnover, il Verona potrebbe approfittarsene, perché è una squadra, che è tosta, tenace, nonostante, non ha questi nomi, Mr. Juric, grandissimo combattente, gli ha dato un'identità sempre vincente e tosta, quindi, secondo me, non sarà facile per l'Atalanta, anche io mi aspetto, pronostico, non scommettetelo perché, sbaglio, però, pronostico, pareggio, Juos, la bordella, pareggio, tra le due squadre, quindi, cosa c'è di Juos? e quindi, e quindi, a noi andrebbe da Dio, io spero, in un pareggio, che così a meno, vincendo domani, perché noi vinceremo domani, rubiamo due punti, l'Atalanta, che è il nostro rivale per il quarto posto, quindi, amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube del Benzinero, ci si vede prossimamente con un altro video, vi faccio salutare Brioche, mi raccomando, andate anche a vedere i video di Ramu, vi lascio il link qui sotto, iscrivetevi al canale, vi voglio tutti bene, forza mia, vinceremo sicuramente, ci vediamo domani, o in tarda serata.